Ciao carissime amiche io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla soap spagnola La Promessa. Siete pronti ad immergervi nell'universo affascinante delle serie turche? Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere il prossimo video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Le anticipazioni spagnole della soap opera La Promessa sono cariche di emozioni e colpi di scena. Protagonisti di questa appassionante trama sono Curro e Manuel, due giovani i cui destini sono legati da segreti di famiglia e rivelazioni sorprendenti. La verità di Curro. In uno dei momenti più toccanti, Curro finalmente decide di svelare la verità a Manuel. I due, l'uno di fronte all'altro, non riescono a trattenere le lacrime. Il mio nome è Marcos, dichiara Curro, sorridendo al fratello, ignaro della sconvolgente verità. Manuel, sopraffatto da emozioni contrastanti, vuole sapere tutta la storia. La conversazione rivelatrice. Curro si siede per parlare approfonditamente con Manuel dopo aver scoperto di essere il fratello di Iana. Durante questa conversazione, Curro riceve un'altra notizia bomba, sua sorella e Manuel stanno insieme. La rivelazione lascia Curro completamente scioccato. Il tradimento di Alonso. Dunque mi stai dicendo che mia madre è stata tradita, incalza Manuel, ansioso di chiarimenti. A quel punto, Curro racconta ciò che è riuscito a scoprire. Alonso, caduto in una profonda depressione dopo la morte della prima moglie Carmen, trovò conforto in Dolores, una domestica alla promessa. Con il tempo, il loro legame si trasformò in una passione travolgente. Dolores rimase incinta, ma sapeva di non poter restare alla villa. Alonso, che aveva trovato un rifugio emotivo in Dolores, era ignaro del destino imminente. La bomba finale. Manuel scopre così l'ultima, devastante verità. Alonso è anche il padre di Curro. Questo significa che lui e Manuel sono fratelli. La rivelazione sconvolge Manuel, aprendo nuove dinamiche e intrighi nella trama di La Promessa. Le vicende di Curro, Manuel e gli altri personaggi di La Promessa continuano a catturare l'attenzione del pubblico, mantenendo alta la suspense e l'interesse con ogni nuovo episodio.